È arrivata questa lettura. Bollette onerose, consumi al minimo, tasse alle stelle e voci non comprensibili a tutti, specialmente agli anziani. È il profilo descritto da molti fanesi che in questi giorni dovranno pagare cifre elevate e definite assurde per i consumi del gas metano, di cui Prometeo Extra ne è titolare. Nel telegiornale di martedì vi abbiamo fatto sentire testimonianze di persone disperate, alcune di queste in fila agli sportelli della Zet Holding che gestisce il servizio. Questa sera invece abbiamo incontrato un fanese che dovrà pagare entro fine luglio quasi 2.000 euro. Di quanto è l'importo nell'ultima bolletta? L'importo dell'ultima bolletta è 1970,76. Lei però ha cercato anche di avere uno storico. Il consumo suo medio quanto pagava più o meno? 1.200 metri cubi all'anno, all'incirca più o meno, dal 1995. E ad oggi invece quanti gliene contano? Oggi diciamo io dal 2008 il contatore è ripartito da zero, praticamente al 31-12-2015 segnava 8.500 metri cubi di metano, oggi ne segna 11.546 che loro mi hanno stimato. Però a differenza di tempo fa adesso non siete più in quattro in famiglia ma in due? In due. Poi abbiamo un appartamento di 100 metri tutt'ampiano con le doppie finestre e diciamo che è una cosa assurda al 100%. Io ho cercato di chiedere spiegazioni a loro. Loro in un primo momento mi hanno detto che poteva essere un guasto all'impianto, cosa che io ho fatto controllare è a posto. Poteva essere un guasto alla caldaia, cosa che io ho fatto controllare quello è a posto. Ho messo in dubbio, dice potrebbe essere il contatore, loro me l'hanno escluso anche perché è un contatore del tipo G4, l'ultima generazione. È stato messo su installato nel 2008 e quindi non potrebbe essere questo guasto. Ma tutt'al più se io lo voglio controllare, loro vogliono 177 euro più IVA più onneri vari. Quindi le immagini è una cosa assurda, capito? Per il resto... Riesce a rateizzare questo importo? Loro questo importo me lo rateizzano anche, ossia me lo rateizzano loro in due volte. La prima metà la vogliono in contanti, l'altra metà dopo 30 giorni. Io questa cifra che loro mi hanno chiesto, 1970, l'andavo a pagare nell'arco di due anni, prima con la Prometeo, la vecchia società. Io ve lo sbalzo, l'avevo già visto dalle bollette precedenti, ha capito? Che prima non pagavo tutte queste cifre qui, assolutamente. E in più le voci perché un consumo reale, se ci fosse, di metano, 675 euro, vado a pagare 346 euro di trasporto. Poi 516 di onneri vari, è un'assurdità, capito? La maggior parte sono tasse. Le immagini da 1970, tolga 675 euro, immagini ci metta l'IVA, non la maggior parte, è tutte tasse, capito? Oltre alle spese normali, le tasse, l'IMO che sto pagando, mi trovo una bolletta del genere. Io non sono all'altezza di poterla pagare, assolutamente. Se loro me la rateizzano nell'arco di un anno, due anni, sì, basta, dopo chiudo. Perché se no sono costretto che loro arrivano e mi tolgono il metano, praticamente.